Oggi parliamo di comuni archeologici che rivestono un ruolo importantissimo per quanto riguarda il turismo italiano. C'è un focus e di cosa parlerà? Apulea sicuramente. Beh sì, noi siamo quest'anno, anche noi abbiamo il 25esimo anniversario dell'iscrizione alla lista del nostro sito al patrimonio dell'umanità e quindi un'occasione anche per vedere altre esperienze e per comprendere come questo marchio UNESCO possa in qualche maniera essere un elemento trascinatore per la valorizzazione e il rilancio dei nostri siti archeologici. Quindi mi fa molto piacere essere in questo focus perché sentiremo molte esperienze e capiremo anche quanto e come, anche in altre realtà, questa iscrizione, questo bollino, come si sta dicendo in questi minuti, riesce appunto a supportare anche la nostra azione di valorizzazione. C'è una parola che sta accomodando quasi tutte le interviste dei direttori, la parola rete. C'è qui a Borsa per fare proprio questo. Questo è fondamentale, è fondamentale perché in Italia in particolare abbiamo naturalmente più di 50 siti iscritti all'UNESCO, ne abbiamo altri, noi siamo una regione periferica, ne abbiamo altri anche a breve distanza nei paesi stranieri, stranieri con termini e fare rete è fondamentale. Noi cominceremo quest'anno con i siti del Friuli Venezia Giulia perché oltre ad Aquileia ci sono altri siti importanti dal punto di vista storico e archeologico, sono Palmanova e Cividale, ognuno per la propria epoca credo sia qualcosa di veramente importante per una regione piccola come la nostra, e in più un sito preistorico che è Palù di Livenza e le Dolomiti Friulane. Cominceremo proprio a creare, a lanciare la rete dei siti UNESCO della regione Friuli Venezia Giulia con l'intento naturalmente di allargarsi sempre di più anche nei territori circostanti.